non puoi perderti il meglio di bike show tv rivedi i servizi più belli iscrivendoti al canale di bike show su youtube bike show tv è anche social network frequenta la fanpage bike show tv o diventa amico della pagina ufficiale bike show e gianni quando quando all'inizio quando si è passato professionista ernesto c'è al meccanico giusto c'è al meccanico avresti pensato in quel momento che ernesto con il suo nome con le sue bici poi diventasse un ernesto con il nago come ha sempre detto la ferrari della bici nel mondo cioè è un marchio non pensavo perché non sapevamo neanche com'era il commercio delle biciclette però si vedeva che aveva una marcia in più tant'è vero che io lo chiamo ho iniziato a chiamarlo padrono il padrone vuol dire il padrone vuol dire 111 che ne sa uno che 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 chi è già un livello quindi se l'ho chiamato così che avevo 21 anni vuol dire vuol dire che avevo già visto che c'è qualcosa in più in questa in questa persona poi dopo che è diventato quello che è diventato ma nessuno sappiamo che cosa possiamo diventare sappiamo anche per cavoli nostri cosa deve sapere per un altro però il sogno che aveva un qualcosa in più si vedeva e gianni però uno dei messaggi che io percepisco poi in questo momento della tua storia nella storia di ernesto che bisogna avere i sogni gli obiettivi e poi inseguirli e perseverare sai i sogni e sogni li hanno tutti che li realizzano ma però guarda danilo ognuno nasce come 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 dovrebbe come dovrebbe diventare o perché uno riesce riesce a fare sacrifici io ne ho fatti di sacrifici per correre in bici ma tanti 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 che se poi le fai e sei convinto in bicicletta rende di più riesce a superare i momenti di crisi però non è che perché sei riuscito in bicicletta riesci anche a fare altre cose no 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 ma va ma neanche per sogno tu sarai portato per fare la bicicletta e fatti tutto la bicicletta ti fa fare delle cose che l'altro non può e guarda chi vince in bicicletta che sai chi riesce a vincere in bicicletta chi soffre di più chi soffre di più riesce a vincere per esempio quello che fa un altro industriale tu forse non sei capace di andare fuori alla sera che devi andare alla cena devi andare al pranzo devi andare andare dove 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 non vuoi andare dove non vorresti andare devi andare e quindi chi riesce chi riesce a sopportare chi fa le scarpe chi fa le biciclette chi ognuno ognuno è portato a fare a fare quello che che un altro non sa fare per esempio con nago con nago io non saprei fare quello che fa quello che ha fatto con nago e sicuramente l'ernesto non sarebbe riuscito a fare i sacrifici che facevo io e idem un altro industriale quindi ognuno deve avere deve 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 dovrebbe che poi non è così dovrebbe capire fin dove può arrivare ma non è così altrimenti è finito mentre diventiamo tutti i geniti come l'anno adesso e gianni e te hai sempre detto il ragazzo perché sei sempre sei sempre giovane e sei rimasto giovane sempre è importante e soprattutto nella testa è importante rimanere ma io penso di sì e Ernesto è rimasto giovane anche lui la fortuna dell'Ernesto è quella lì che anche lui gli piace ridere gli piace dire dire le sue cose ma anch'io penso penso che sai che si può parlare seriamente anche sorridendo intanto prendono le cose sono sempre arrabbiati anzi le affronti meglio le cose giusto insomma non tutte però però io preferisco preferisco avere il carattere un po' sempre sorridente un po' sempre ma no non preferisco sono così e basta finita lì si nasce Gianni andiamo avanti a fare il nostro giretto in bici andiamo a pedalata possiamo chiacchierare certo e vi raccontiamo sempre Gianni Mota e Gianni le sue storie andiamo Giro alla Svizzera i Givi della Svizzera tu hai vinto il Giro alla Svizzera? due Romandia? due Romandia e un Giro alla Svizzera comunque l'ho detto prima Giro alla Svizzera la Svizzera è come il Val d'Aosta diciamo salite si sono chi vince con lì bene o male sono corridori altrimenti non riesce a vincere una Svizzera a correre in Svizzera e vincere perché là c'è sempre delle salite che sono impegnative tutti il giorno c'erano stelvi qua tu andavi forte di salita però avevi anche le voci poi in volata le volate volate di ho vinto anche volate di gruppo provate ma i 5 6 erano mi manca anche 15 perché non avevo paura di entrare e mi dice non credo che non ci tenevano troppo a portarmi in volata eh aveva ragione perché dopo li batteva ok testa a testa io e Edi l'ho sempre partito sempre testa a testa ma anche quando arriviamo con il giro delle miglie che siamo arrivati alla quindicina che lì con questo non vuol dire che vai più forte non puoi perderti il meglio di bike show tv rivedi i servizi più belli iscrivendoti al canale di bike show su youtube bike show tv è anche social network frequenta la fan page bike show tv o diventa amico della pagina ufficiale bike show Giani qua stiamo andando verso Vaprio d'Adda ci sono le strade bianche tra le strade bianche c'è stato il periodo quando correvi nel mio periodo ce n'erano abbastanza io andavo anche bene me la cavavo bene perché sapevo guidare bene la bicicletta mi piaceva almeno quando era così può darsi anche che li staccavano veramente però io mi ricordo per esempio una tappa del Giro d'Italia poche poi ho vinto io che si arrivava a Moena che si faceva il Lavazè che nevicava in cima poi pioveva in discesa la discesa era bianca della Lavazè quindi stradina larga come questa qui piena di buche piena di buche anche piene d'acqua quindi entravi e non sapevi dove uscire e lì ne ho presi perché c'era via una fuga ne ho presi tanti ne ho staccati quasi tutti che siamo rimasti insieme io l'Italo Zilioli e anche Til che poi ho vinto io la tappa e oggi ad oggi stanno ritornando in Italia con le strade bianche è spettacolo danno spettacolo un'altra cosa che dico sempre veramente sai che se ci fossero state tante strade bianche quando correvamo con Lady questo qui ci dà un quarto d'ora tutte le tappe così perché è come andare in salita un po' perché perché sull'asfalto ti metti dietro e ti salvi no perché non devi mettere fuori la testa a guardare le buche diciamo dimmi un po' stai lì rischi anche senza guardare davanti con la strada bianca devi uscire per schivare le buche o meno ma dopo tre uscite va la Sanremo la Sanremo potrebbero fare una Sanremo con dei per andare nella prima parte da Milano andare verso la Liguria con delle strade bianche che ci sono ci sono eh ma no penso di sarebbe troppo dura ma no dura no 300 km con le strade bianche ma no dura no per le forature eh ti rovinano senti ci sono la corsa che è strade bianche e c'è la mina Sanremo che è quella del sole basta ma una in Lombardia una strada bianca in Lombardia si può fare vabbè basta basta darle in manotelli e le trovi le troviamo le troviamo andiamo a vederle noi Gianni andiamo però dobbiamo fare degustazione noi più che anche non solo pedalare eh ma non si può in questi giorni fermarsi c'è tutto eh si è chiusa anche la sarumeria riprenderemo eh riprenderemo andiamo in bici adesso ma un ricordo vago che forse avevo due anni tre anni ma comunque ti ricordi di quelli come lì mi ricordo delle delle fotografie mie fotografie non fotografie nel pensiero che eh c'erano dei cavalli che tiravano i barconi qui su noi e li portavano su fino a Letto andavano in su e poi dopo portavano giù mi dicevano che portavano giù il Duomo di Milano mi sembra mi sembra che il marmo del Duomo di Milano viene tutto dalla Bergamasqua dall'Ecco si dicevano che anche anche ad esempio anche il Castello Sforzesco tante parti del castello sono fatte con il castello di Trezzo d'Adda le raccolte si ma no dal momento che tu hai girato che hai filmato su questo questo percorso e le chiusi che ci sono lì verso Paterno si può e guarda se anche il percorso è sempre quello non è sempre uguale perché un giorno passi come oggi che è il Duomo quindi hai una visibilità un altro giorno passi che c'è un sole della madonna e quindi vedi le cose in un altro modo si cambia è un percorso che non stanca un giorno fa caldo un giorno fa prezzo e sai cosa dico sempre io? che noi corridori respiriamo respiriamo le stagioni perché sentiamo tutti i profumi pensa che bello e qua eh qua respiriamo ogni posto ha il suo profumo questo qui è il mio gregario dei giorni feriali ora adesso vi spiego quando ero esordiente che cosa facevi? io e il mio amico di Cassano che voleva correre anche lui venivamo qui a fare i giri della canonica no? la salita questa facciamo la salita e giù a piedi salita e giù a piedi perché là c'è la scalinata no? eh? per fare il circuito per fare fiato pensa un po' che cosa facevamo delle giovanili vedi ho considerato quasi la salita per le nazi credo questa è Villa Dada vedendo la canonica la canonica canonica Villa Dada appunto Villa Dada ciao Andrea ciao ragazzi ciao signora ci vediamo qualche volta ciao dopo andremo a casa vi faccio vedere la fotografia del Dante con Sandro Dante grazie ci fai vedere anche le tue vittorie un po' di foto delle vittorie Dallievo Dallievo guarda professionista non puoi perderti il meglio di Bike Show TV rivedi i servizi più belli iscrivendoti al canale di Bike Show su YouTube Bike Show TV è anche social network frequenta la fan page Bike Show TV o diventa amico della pagina ufficiale Bike Show questo è la rubi questo qui lo sto per vincere qui che foto mi salterò fuori adesso guarda questo qui il corridore vedi i corridori anche qui questo dove è ricaduto qui è una una Tirena Adriana Tirena Adriana Tirena Adriana come si dice ma penso io l'ho visto io sono andato a vedere una rubè qualche anno fa e sono sceso per vedere il pavè mi dicevano ma io sono passato di qui ma non riuscirei più neanche ci sono io Antic Sels Merckx Van Nooy Pulidor Jansen e Ragnar penso che è più duro e qui un altro che è Van den Blüten quello lì che è saltato giù la catena allora questa qui lì bisognerà essere bravi questo è rubè adesso ti spiego questo è rubè questo a un certo punto ero in fuga avevo un minuto mancavo poco lo rio mancavo una ventina di chilometri all'arrivo per un minuto ho forato ho forato non avevo non c'era la macchina dietro mi raglia puoi immaginare quindi ho dovuto lasciar passare un po' di corridori mi hanno cambiato la ruota ho ripreso il gruppettino e sono quindi vuol dire che se non foravo ero già davanti stavo davanti e ti giocavi la vittoria e no l'ho fatto oramai perché se ho aspettato la macchina avrò perso un minuto minimo minimo perché la macchina non è che era dietro anche perché rubè le macchine perdono tanto confronto fanno fatica a passare no questa qui dovi una guardate ragazzi beh questo qui è un campionato italiano come ti dicevo che attivo lì è qua? allievo allievo il primo italiano che hai vinto questo? questo qui è il campionato lombardo vabbè solo uno no poi ne ho vinto un altro in pista qui va bene eh adesso questo non arriviamo a qui è una corsa il ghisallo vedete che facciamo così la faremo l'allievo qui penso che da direttante ah qui Gigliori Gigliori che mi premia quando facevamo col De Joux al Giro della Valle d'Aosta aspetta ragazzi che ti dicevo San Ben San Gianni vinto anch'io a San Ben San alla Valle d'Aosta eh vedi ragazzi aspetta prima di questa voglio farti vedere questa qui è quella con Dante Brambilla questo è il papà di Alessandro Brambilla e questo è il primo corso che ho vinto e la copa la vediamo e la copa che è in casa no in casa questa corsa qui va bene sto lì a raccontarla comunque vabbè non volevano darmi la vittoria perché dicevano che ero doppiato invece eri invece invece stavi doppiando tutto qui nella corsa vedi anche i fiori questa quella copettina che ho lì in casa i fiori perché prima gli erano andati io uno poi una poi a me poi me li han tolti e li han dati all'altro poi a me sono rimasti tre garofi rimasti però posso dire Gianni qua c'è proprio la faccia della felicità e credi quando uno quando uno si diverte si diverte e fa la bicicletta questa qui è sempre quella corsa lì guardate guarda le miss di una volta come erano belle molto strane la prima vittoria si la prima ti guardate ah questa qui va bene questo è il salotto questo è il salotto perché ho vinto tutti i campionieri tutti i traguardi volanti si vincevano salotti però questa qui è una corsa che ti dicevo che spingevo il tuo avversario questa qui è una corsa che ero passato via io il mio amico carluccio con la moto con la moto guzzi un giorno non si faceva il giro della provincia di como che era tappe 5 però la tappe una per domenica ogni domenica una gara una domenica l'hanno saltata allora abbiamo detto il mio amico carluccio perché andiamo a Iseo Iseo andiamo a mangiare i pesciolini poi dopo veniamo a casa allora ho messo la bicicletta in spalla andiamo verso Iseo a Seriate a Seriate c'è una ho visto che c'era una gara allora mi fermo mi dico carluccio io corro corro io corro andiamo giù andiamo giù e mi fanno sei iscritto? no e allora non puoi correre mi hanno detto non puoi correre vengo via ero in un oratorio a Seriate vengo via e trovo questo signore che è un giornalista se non mi ricordo più bene come si chiama che mi fa Gianni allora come va anche questo? Gianni allora come va? e non mi lasciano ancora dai 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 vieni vieni con me allora vado con lui mi scrivono questa qui è quella che poi dopo al finale spingevo il corrido l'avversario portato sì che ho vinto con 3 o 4 minuti però vedi già la considerazione che c'era Gianni sulle qualità che avevi eh perché ci sono queste foto che raccontano raccontano molto della storia beh forse questo qui in giro dalla provincia questa qui è una gara una delle prime gare da dilettante che ho vinto a Corsico 46 di media mi ho fatto 36 km da sopra e dietro erano in 5 che dicevano lasciamolo la che andiamo a prendere basta lasciamolo la alle 12 è già in cui si dice qui è un'altra bella corsa guardateci andiamo con un pochino a Barallo anche qui ho fatto una quarantina di km di fuga questo qui è Mario Ricci del del commissario tecnico che è stato anche corridore si ah qui che rifuga la colghera a Brallo che roba che roba che roba che roba un'esiliente di mi sembra 80 km una delle più lunghe sono andato in fuga la prima dopo 2 km ero in fuga e l'ho fatta tutto in fuga e con le strade grazie pensa un po' le strade bianche qui qui sempre qui da esiliente qui c'era il rimedio a vedere quella gara che ti ha fatto vedere prima Corsico qui qui ecco qui qui l'ultima tappa del Giro d'Italia da protezionista del 64 l'onda penultima tappa la Torino noviella mi sembra che qui ero in fuga e Fontona mi sembra che si chiama tu compagno di squadra allora è neri guida neri attento qui dopo sono andato in fuga e qui siamo su ultima salita la serra qui sono io Vitossi e Rostolano qui gli sto dando i colpi per per staccarli pian piano e sono riuscito vedi qui in cima la salita qui ancora qui ancora vabbè qui pian piano che sto tirando pensa un po' come stanno soffrendo dietro eh si non dova che faccia poverino qui ho Vitossi adesso gli sto dando l'ultimo colpo che lo stacco anche lui colmato ma il bello di quella gara lì di quella vittoria è questa ecco qui siamo all'arrivo che era Vitossi dov'era Vitossi è arrivato in cima a questa salita con 100 metri e mancava una 30 km d'arrivo è rimasto a 120 quindi un altro cosa avrebbe fatto non aspetta no? 100 km non aspetta ma io non ho detto per per prendermi devo far fatica allora io facevo fatica davanti lui dietro penso un po' è arrivato ancora con una ricetta no è reale sì ma guarda come sono arrivati guarda arrivo dentro una biella una capo una pista adesso un po' però come siamo arrivati vado lì è tirato qui 21 anni fa 21 invece qui ma queste qui non le vede nessuno quella con il dante con il braccio è da un'altra parte qui invece è la cosa più bella però non ve la faccio vedere ma non ve la faccio vedere le faccio vedere solo così e basta che non l'ha visto ancora nessuno qui siamo in pochi pochissimo qui un'operazione che mi hanno fatto qui cosa mi hanno tirato fuori qui quando sono addormentato qui quando mi hanno tagliato l'arteria e qui quando mi stanno chiudendo non ho mai visto nessuno queste qui e non li faccio neanche vedere che sono momenti quei momenti lì pensi è brutto perché tu ormai avevo già smesso di correre e la maggior parte delle persone diceva che non era vero che non aveva più voglia di correre tutti quasi tutti i maligni quasi tutti invidiosi e vabbè peggio per loro intanto noi siamo qui ancora a raccontarla ciao a tutti ragazzi siamo arrivati alla fine del nostro giro oggi con Gianni veramente che ci ha raccontato la storia un po' parte la sua storia e siamo arrivati Gianni oggi è stata bella bene no? abbiamo fatto un bel diretto abbiamo anche abbiamo la nostra compagnia io in bicicletta stare via tutto il giorno così è bello fare così così no? bene intanto Gianni io ti ringrazio ti ringrazio proprio per questa giornata grazie a te e facciamo un saluto ai nostri telesperatori ciao a tutti ragazzi mi raccomando divertitevi perché la cosa migliore è divertirsi poi ognuno si diverte come vuole anche andando forte io no io mi diverto andando piano anche andando piano non è male neanche andare piano no 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 anzi arriviamo più freschi chiacchieriamo ci raccontiamo e poi si vedono anche più cose bene che è quello che conto poi ciao a tutti grazie Gianni Motta un saluto a tutti i nostri amici ciao a tutti alla prossima ciao 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 ciao